Una voce mi dice no, non è il momento, continua a parlare, ma vedremo, ecco. Allora, sono particolarmente contento perché per la serie sfiorati da Dio, testimoni del nostro tempo, dopo aver concluso la vincente storia in quattro puntate, mi pare, di Don Divo Barsotti, questa sera iniziamo un ciclo di catechesi che durerà un po', ve lo dico già da adesso, durerà un paio di contri su Natuzza Evolo, ecco. Allora, cominciamo con tre introduzioni. La prima introduzione, non ne posso parlare senza esserne coinvolto rispetto a tutti gli altri, perché l'ho incontrata una quindicina di volte, perché è stata lei a chiamarmi a Paravati, perché ho avuto dei colloqui straordinari con lei, avevo preparato il percorso dei miei incontri con lei, ma l'ho scordato a casa, segno che ve ne parlerò un'altra volta, perché questa sera iniziamo con la vita. Questa, quindi, è la prima introduzione. Sono coinvolto da quella che chiamerò spesso Mamma Natuzza, come tutti la chiamano, Mamma Natuzza. Ecco, questa è la prima introduzione. La seconda introduzione mi servirò di due fonti. La prima fonte è un insieme di appunti, ringrazio chi me li ha forniti, così divisa. La vita e i doni, poi la missione di Natuzza, e seguirò questa articolazione qui, la missione di Natuzza, e poi sotto il titolo di missione di Natuzza, credo debba essere per forza un sottotitolo, ecco, infatti, pagina 3. Natuzza, parafulmine, così Gesù la chiama, perché Natuzza, come vedremo, Gesù la definisce un parafulmine, cioè Gesù si serve di lei per non castigare l'Italia. Ecco, lo vedremo. E poi c'è un capitolo, anche per lei, molto significativo, di Natuzza, come per tutti i mistici, la notte oscura della fede, come l'abbiamo vista in tante anime lette di cui stiamo parlando, la passione di Natuzza, io sono testimoni di tutto questo, mi ricordo, io citerò continuamente elementi autobiografici, ma è inevitabile, è inevitabile. La prossima volta proprio porterò il foglio, perché ho fatto una sintesi degli incontri miei con Natuzza, delle cose che mi ha dette, delle cose che ho detto, per esempio, una volta che sono andato da lei, una delle primissime cose che mi ha detto è, vi posso venere nonna? Mi ha detto così, vi posso venire nonna? E mi ha detto, i vostri nonni sono tutti in paradiso, i vostri nonni sono tutti e quattro in paradiso, ma a lei chi gliel'aveva detto che i miei nonni erano tutti morti? Io mica gliel'avevo detto. È una scommessa di un poco conto se ti, come si dice, se tiri l'azzardo, no? Se ti azzardi è molto rischioso, perché io non ero vecchissimo, avevo, quando sono andato, ventiquattro anni, ventitré anni avevo, e sapere da parte sua con sicurezza che i miei nonni erano tutti morti, no? E poi mi ha detto altre cose che solo il mio angelo custode poteva sapere, ma questo a vedere. Poi c'è l'esperienza, la passione l'ho detto, sì? La passione, l'ho detto della passione, sì? Che viveva la passione di Gesù come padre Pio, lo vedremo, ci sono immagini anche su internet, non l'ho detto. Allora, la passione. Natuzia viveva la passione di Gesù ogni anno in quaresima. Veramente, io sono andato a trovarla il martedì grasso del 2008, e 2007, prima che morisse, e mi disse questa frase qui mentre mi salutava «Paci, priate, pimi apichi sugnu cotta!» Padre, pregate bene perché sono cotta! Cioè, era veramente, guardate, era Cristo in croce, Natuzia, eh? Soprattutto in quaresima le spuntavano le stimmate visibili, i segni della passione sulle ginocchia, la corona di spine sulla fronte, e, vabbè, vedremo piano piano, perché la fenomenologia mistica... Oh, a proposito, c'entra anche padre Agostino Gemelli. Non vorrei che con questo ciclo di catechesi noi andassimo a finire come con quelli di padre Pio. Mi sa che rischiamo grosso, eh, di stazionare con Natuzia per una ventina di volte. Entra pure in gioco padre Gemelli, che aveva già crocifisso padre Pio nel 1922 e nel 1940 spinge il vescovo di... Vi anticipo un paio di cose... Eh, qui... Eh, sì, il vescovo di Mileto, il vescovo di Mileto a farla portare... Ecco, padre Agostino Gemelli viene incaricato di esaminare Natuzia, va bene? Come aveva esaminato padre Pio, e la diagnosi è di isteria. Addirittura padre Gemelli, lo vedremo, consiglia il ricovero in manicomio. Capito? Mentre padre Pio se la fa franca, perché comunque resta in convento, la povera Natuzia viene portata in manicomio. Adesso non mi ricordo qui, non è scritto, ma credo che sia stato a Reggio Calabria che viene portata. Lo vedremo. E poi ancora, dunque, la morte apparente. È un'esperienza mistica del tutto singolare. Cioè, lo vedremo, a 14 anni, il 26 luglio 1938, per sette ore, Natuzia vive preannunciata in una visione per giunta. Lo vedremo in casa dei Colloca. Erano una coppia di nobili uomini, di nobili gente, del paese di Mileto, che ospitavano Natuzia che faceva da inserviente, insomma, ecco. E lì esplodono i fenomeni mistici. Natuzia comincia a vedere i morti. Io ho avuto esperienza di questo, eh. Ho avuto esperienza. Mi ha detto di mia nonna, che c'era mia nonna che le diceva cose che Natuzia non avrebbe mai potuto sapere. Ho avuto esperienza, eh. E Natuzia per anni, per almeno un sessantennio. La gente che ne andava a trovare da tutta Italia, gente anche famosa, Pippo Franco, per esempio, lo conoscete tutti, ha reso un'attenzione straordinaria. Anche Roberto Benigni era amico di Natuzia, solo che l'enturageno gli ha permesso poi di... Dunque, dov'è? Non vedo più niente. Allora, ha vissuto la morte apparente a 14 anni, il 26 luglio 1938 ci torneremo. Poi, altri tratti di Natuzia che vengono sottolineati, l'amore alla Madonna, al Santo Rosario, il grande amore per Gesù sacramentato, e poi il primo novembre 2009, all'età di 85 anni, Natuzia muore. Vorrei subito raccontarvi un episodio autobiografico per dirvi che ne farò tanti in barba ai miei nemici. Ed è questo. Quando è morta Natuzia, il primo novembre del 2006, del 2009, io ho avuto la notizia subito. Ero ancora parroco, mi sono organizzato, credo fosse proprio una domenica, no, era solennità, la solennità di tutti i santi. Subito ho chiesto a mio confratello di sostituirmi, sono partito immediatamente per Paravati, perché Natuzia mi aveva detto tante volte e mi diceva ogni volta che andavo la vostra missione non è facile, la vostra, parlando per me, la vostra missione non è facile, e aggiungiava perciò la Santa Vergine vi ha affidato a me. Perciò la Santa Vergine vi ha affidato a me. Io l'avevo vista in sogno prima di andare la prima volta, per questo poi sono andato, perché è venuta a trovarmi in visione la notte. Comunque, volevo raccontarvi questo episodio che io faccio appello, perché so che tanti potrebbero dubitare quello che dico, alla mia coscienza, per dirvi che era Natuzia, l'ho raccontato oggi a Messa, ma lo voglio raccontare a tutti per dire che sono personalmente coinvolto, come quando poi parlerò per 50 volte, per 50 incontri di Padre Amort. Allora, non è facile vedermi addosso, perché io sono bestalleggiato, Padre Amort e Natuzia, non so se mi spiego, mamma e papaccio. Allora, quando è morta, io sono andato subito, ho trovato, potete immaginare, un corteo di gente chilometrica. Natuzia era stata sistemata dentro la bara, con le mani sul seno, e gli occhi chiusi, ovviamente, e la gente andava per un istante a omaggiarla, a salutarla per l'ultima volta. Io mi sono messo in fila, in quel primo novembre, sono arrivato a Paravati, andando a 200 km ormai, abbastanza presto nel primo pomeriggio, e mi sono messo in fila dall'esterno, pensate, Paravati, c'è stato un piccolo paese, in provincia di Reggio Calabria, veramente piccolissimo, però molto bello, è situato in una posizione molto bella, tra le colline ridenti, e allora, la fila per venerare Natuzia iniziava dall'ingresso del paese. Capito? E mi sono messo in fila, come era giusto. Ero in Talare, mi parò in Clergeman, mi sono messo in fila. Finalmente arriva il momento di entrare in chiesa, dopo ore e ore, perché tutta la Calabria, soprattutto la Calabria, ha reso omaggio a Natuzia, e finalmente quando sono arrivato davanti a lei, c'era il cordone di sicurezza, e io non sono potuto andare avanti. Mi sono dovuto limitare a guardarla a distanza. E ho notato che alla sinistra della bara, c'erano i familiari, perché Natuzia si è sposata, lo vedremo, e ha avuto, mi pare, quattro o cinque figli, quattro figli, cinque figli, quindi sposati, quindi c'erano i nipoti, le nuore, i generi, tutti lì, con Don Pasquale Barone. E allora io passo per salutarla, la guardo un attimino, e mi viene un senso di grande e profondo sconforto, perché non mi danno il tempo neanche di vederla un attimino, io che sapevo che lei, la Madonna, le aveva detto di guidarmi, eccetera, eccetera, mi metto, diciamo, in un angolino, almeno dico, una guardia mi dice, proceda, oh, un momento, io sono sacerdote, mi lasci in pace adesso, non sono dovuto imporre, con la mente, col cuore, ho detto a Natuzia, sei stata tu a dirmi che mi sei madre? come mai sono qui e non lì? Cioè, tra i familiari? Io, ripeto, se aggiungo qualcosa, renderò conto a Dio. Poco tempo dopo aver finito di dire questa cosa qui in cuor mio, Don Pasquale Barone, che saluto con affetto, lui non segue probabilmente le mie catechesi, ma so quanto sta soffrendo del sequestro coatto che la chiesa bergogliana ha fatto dopo che si sono ammazzati la vita i padri, padre Michele, Don Pasquale, loro obbediscono come fanno i francescati di Immacolata, è una scelta loro, io non la condivido, dico che è anche sbagliata, comunque la Santa Sede si è preso il ghiotto boccone, capito? Bergoglio ha stoppato la causa di beatificazione e si è presa la struttura, perché dove c'è denaro, la chiesa dei poveri di Bergoglio fa finta di scordarselo, ma è un'altra storia, Don Pasquale Barone mi vede e mi fa chiamare, viene una guardia e mi dice guardi che c'è Don Pasquale che la chiama, io vado e Don Pasquale mi dice oh Don Alessandro, perché lui me lo faceva incontrare continuamente a Natuzza, venga venga si segga qui, mi sono seduto con i familiari, Natuzza mi ha preso in parola, perché ha detto ma me l'hai detto tu che sono tuo figlio, che ci sto a fare da quest'altra parte? e mi sono goduto, diciamo goduto tra virgolette, una cosa che mi ha colpito è che io sono stato lì fino a poco prima che chiudisse, che sigillassero la bara e poco prima che lo facessero sono voluto tornare, come avevo fatto altre volte, a toccare le mani di mamma Natuzza, una cosa che mi ha colpito moltissimo era la morbidezza, non erano mani rigide, nonostante fosse passato un giorno e mezzo, ed è anche fredde, questa è una cosa che quelle bani stimmatizzate avevano, che mi ha colpito moltissimo, ma se io continuo con i miei racconti personali non la fisco più, prima o poi ce li aggiungo, adesso invece andiamo alla vita e ai doni, la prima parte, allora, Natuzza nasce il, ah, dovevo fare un'altra introduzione, vi ricordate che avevo detto erano tre, mi ero scordata la terza, quella che racconteremo in più puntate è la storia di Natuzza Evolo, una donna calabrese, semplice, coraggiosa, piena d'amore, come dice il giornalista Luciano Regolo, la più grande mistica cattolica dei nostri tempi, forse è una frase eccessiva questa, stasera come potete capire è tutta un'introduzione, ma stiamo parlando di una superstar, diciamo così, penso l'abbiate capito subito, cioè non possiamo, con tutto il rispetto di tutti quelli di cui fin qui abbiamo parlato, Natuzza adesso va a situarsi accanto a Don Dolindo Ruotolo, per dire, a Don Divo Barsotti, tutti di quelli di cui abbiamo parlato, è una frase eccessiva dire che è la più grande mistica dei nostri tempi, penso di no, è che lei era molto umile Natuzza, estremamente umile, ma il Signore l'ha visitata come ora vedremo di grandi doni, santa subito, invocava la folla immensa radunata per i suoi funerali a novembre 2006, 2009, io ero lì ai funerali una pioggia dell'altro mondo Fionicari, eppure quella piazzale dove sorge questo enorme chiesa di Natuzza era stracolmo di gente, e soprattutto quello che mi ha colpito tantissimo di tantissimi tantissimi sacerdoti, ecco, tantissimi sacerdoti. Natuzza è morta prima dell'avvento della falsa chiesa, ma questa è un'altra storia che vedremo. Allora, nasce il 23 agosto 1924 da una poverissima donna di Paravati, di Paravati, in un torrido pomeriggio, la piccola nasce in un modo piuttosto insolito, già questo dovrebbe farvi riflettere, già la nascita dice tutto, nasce con le mani come si dice? giunte, giunte, le mani giunte, no, le mani giunte, sì, no, devo dire la verità, le braccia incrociate, così, non le mani giunte, le braccia incrociate, nasce con le braccia incrociate e anziché piangere come spesso succede quando si nasce, nasce in silenzio, tanto che la, come si chiama la, Caterina dice, dobbiamo battezzarla subito, dobbiamo battezzarla in fretta, morirà presto, questa bimba del Signore, evidentemente avevano pensato che questo segno che nasceva con le braccia incrociate e in silenzio era il segno che stava per morire, morirà presto, infatti riceve il battesimo il mattino dopo. La mamma è una figura particolare, la mamma di Natuzza, preparatevi perché parleremo di un'infanzia assolutamente dolorosissima di Natuzza, dolorosissima. La mamma si chiamava Filomena Mariangela e aveva 19 anni quando ha partorito Natuzza, avrà anche altri 5 figli, il papà però, questa è la cosa più importante, dopo aver messo incinta la moglie del primo figlio che è Natuzza e se ne va in Argentina. Abbandona la moglie, Mariangela, la abbandona e se ne va in Argentina. Ecco, Regolo si domanda perché vada in Argentina e dice che il motivo appunto è quello che viene sottolineato in cerca di lavoro per un futuro diverso. Il problema è che però una volta partito quest'uomo non si fa più vivo né con un telegramma pur sapendo che la moglie è incinta, né con un telegramma, né con una lettera. Poi vi anticipo subito, Natuzza andrà a trovarlo in bilocazione, eh? In bilocazione a Buenos Aires e descriverà i propri familiari. Natuzza, sedicenne, diciottenne, adesso mi ricordo l'età esatta. Guardate, preparatevi perché la vita di Natuzza è semplicemente straordinaria. È un vento del soprannaturale in una terra arida come la Chiesa Cattolica del nostro tempo. Lei, Natuzza, andrà a trovare suo padre per capire chi era, voleva sapere chi era, lo va a trovare in bilocazione. E come ho letto oggi, lui la riconosce, ma Natuzza offre dettagli della casa di Buenos Aires che poi i familiari di Natuzza andando in Argentina a Buenos Aires verificheranno che effettivamente Natuzza... Poi lui, il papà, non mi ricordo come si chiama, non c'è scritto, si testimonierà di averla vista, però non ne vuol sentir parlare. Questo fatto che la figlia era una mistica lo lascia un po', diciamo, impaurito. succederà però successivamente che Natuzza, quando muore il papà, lo va a trovare in purgatorio. E dice, papà, ma perché hai fatto così? E lui gli dice, ti chiedo perdono, ho sbagliato, mi pento, di avere... Ecco, il papà si chiamava Fortunato. E' molto, secondo me, commovente. Si vede che questa donna, la mamma, 19enne, rimasta incinta, deve avere voluto bene, ha amato quell'uomo, perché a Natuzza, Natuzza si chiama così perché il nome di battesimo è Fortunata, come il papà. Fortunata, Fortunatuzza, no, Fortunatuzza, Natuzza. Alcuni la chiameranno addirittura anche Tuzza alla bambina. Ecco, e allora questa donna di 19 anni che partorisce Natuzza si trova da sola, io non avrò fretta di raccontare la vita perché la trovo un romanzo sopranaturale straordinario e per cui andrò anche nei dettagli che è Rugolo a sotto. Mi pare che lei ha avuto altri figli, la mamma, ecco, addirittura altri cinque figli e questa è una storia un po' dolorosa perché era una, come, poliandrica si dice, cioè aveva, stava con più uomini, ecco, vabbè, non vi stupite, stava con più uomini. finirà in carcere questa donna per avere, per un reato, vediamo se mi ricordo bene, ecco, per aver rubato delle galline la mamma di Natuzza finirà in carcere, ma è una storia veramente molto dolorosa. Questa donna, 19enne, però è ancora legata all'uomo che è andato a Buenos Aires e le donne possono capire quanta sofferenza c'è dentro a tutto questo, no? E la chiama col nome del marito. Ecco, Mariangela non rinuncia alla propria indendenza però e dopo la nascita della bambina in casa dei suoi genitori se ne torna a casa propria una poverissima stanza a Paravati presa in affitto, eh, presa in affitto. Ma nel paese dopo la nascita della bimba si diffonde una calugna cioè che fortunato se ne è andato da Paravati perché la moglie era una poco di buono e per cui Filomena Mariangela passa da vittima a scusate passa da carnefice da carnefice a vittima è vero lei avrà altri cinque figli ora lo vedremo ma nessuno degli uomini con cui mette al mondo i figli presumibilmente tutti diversi questi uomini scappano tutti dopo che lei rimane incinta non era una prostituta e attenzione aveva una problematica di altro tipo ma nessuno di questi uomini si prende cura di questi bambini Natuzza ora lo vedremo è qualcosa di commovente a otto anni li protegge andrà al panificio al panettiere per implorare un po' di pane e il panettiere dirà zittate tu figlia ribastarda e lei dirà a otto anni a otto anni dirà sì è vero ma datemi un po' con i panni pimefrati lo capite no? e Natuzza prenderà questo pane raffermo e lo sbriciolerà di nascosto per prepararlo da dare e mangiare ai fratellini quando poi la mamma verrà arrestata Natuzza verrà buttata fuori di casa la proprietaria della casa in affitto la chiama e la getta via perché lei non può più stare lì perché non c'è da pagare l'affitto e Natuzza dormerà tutta la notte all'aperto con i cinque fratellini che è vero questo mangiavano la cera delle candele per sopravvivere quindi come potete capire un'esperienza molto drammatica i pettegolezzi aumentano su questa mamma di Natuzza si fanno più velenosi prendendo a bersaglio Mariangela ma anche i suoi pigli che in paese passano col nome di di bastardi ecco di bastardi chi è del sud lo sa che i paesi dell'entroterra non perdonano c'è un codice morale per cui nei paesi ancora oggi è così figurarsi negli anni 20 del novecento della prima metà del novecento bene ma che fine ha fatto fortunato il papà è una domanda legittima non fa più ritorno in Italia abbiamo solo delle ipotesi egli avrà incontrato un'altra donna e si è risposato una donna di nome Maria italo-americana ma ci torneremo su questa otto anni però Natuzza questa è una data importante vede per la prima volta la Madonna che la accarezza e la consola del grave fardello che così piccola deve già portare cioè accudire i fratelli mentre la mamma come ora vedremo è in carcere spesso in casa non c'è nulla da mangiare neppure un pezzo di pane e lei a soli cinque anni come dicevo poco fa si piazzava davanti al laboratorio del fornaio aspettando silenziosamente che questo impietosito le largisse qualche pagnotta che non aveva venduto la bambina non solo sopportava la lunga attesa e spesso la fredda indifferenza e il senso dei fastidio che percepiva al suo semplice avvicinarsi al forno ma anche le parole dure verso i suoi fratelli quando ottenuto il pane si sentiva dire dallo ai tuoi fratelli bastardi allora Natuzza si sedeva silenziosa sul marciapiede e rannicchiatasi su se stessa fingeva di addentare la pagnotta e invece con la mano la spezzava e ogni sera deve esserci qualcosa e ne faceva cadere i tocchi dentro il vestito cioè li metteva all'interno del vestito e così indisturbata portava questo pane ai fratellini confiderà lei stessa divenuta adulta nell'animo mio la prima volta che la sentiamo parlare Natuzza nell'animo mio ero felice pur sempre soffrendo io ero piccolina non avevo nemmeno dieci anni però come abbiamo detto a otto anni vede la madonna adesso entreremo nel campo specifico quando un bambino si faceva male a un piede ecco qui Natuzza sviluppa qualcosa di particolare e non aveva neppure le scarpe io prendevo della camomilla la bollivo in una cioccolatiera vecchia prendevo una grasta cioè la pentola di terracotta insomma faceva degli infusi e si diffonde la voce a paravati che questa fanciulla ed è vero perché aveva dei doni particolari io l'ho incontrata come ho detto tante volte io rimanevo diciamo conquistato da Natuzza era semplice umile donna di popolo ma il carisma che aveva era semplicemente fuori dalle regole si imponeva aveva uno sguardo una volta mi disse sti occhi vittero lo mistero questi occhi hanno visto il mistero ma i medici non lo vogliono capire così perché lei parlava molto soprattutto in dialetto quindi preparava questi infusi e persone ammalate prima di tutto i bambini ma poi lentamente gli abitanti di paravati che avevano malattie venivano guariti dai decotti di Natuzza che rischierà di sentirsi definita maga maga ancora in piccola età in effetti raramente gioca con i bambini Natuzza perché ha poco tempo a disposizione deve dedicarsi ai fratellini ma e questo è vero che cosa vedeva quali sono i primi rapporti con l'esperienza mistica le prime apparizioni avvengono in modo tale da lasciare persino Natuzza nel dubbio vi dicevo che la prima volta che vede la Madonna è a otto anni non sapevo dice lei che fosse neppure la Madonna povera figlia come padre Pio ma infatti si incontreranno lo sapete padre Pio diceva ai calabresi ma padre Pio era di un'umiltà straordinaria ci andavano i napoletani diceva ma che venite a fare qui anche perché il lavoro era troppo per lui ma andate a Napoli che avete don doling venivano quelli di Roma ma che venite a fare qui ma andate a Roma che avete padre Candido ci andavano i calabresi ma che venite a fare qui andate in Calabria che avete Natuzza a cinque anni come padre Pio Natuzza quindi non otto a cinque anni comincia a vedere a otto anni otto anni vede per la prima volta la Madonna quindi otto anni dice non sapevo neppure chi fosse la Madonna poi ho cominciato a vederla era una bella signorina questo è il modo veramente geniale con cui Natuzza esprime le realtà del cielo le esprime in una maniera assolutamente meravigliosa la figlia di Natuzza ha avuto cinque figli la terza Anna Maria Nicolace dice la Madonna racconterà dopo la morte la Madonna appariva mia madre da bambina così spesso e normalmente tra virgolette normalmente da indurla a pensare che succedesse a tutti come padre Pio vi ricordate il piccolo Francesco pensava che vedere Gesù e la Madonna fosse una cosa che tutti avevano per questo dice la figlia andò a parlare con il parrogo di Paravati padre Don Silipo il quale cercò di non dare troppa importanza io questo succeduto non lo capisco è sicuramente in cielo guardate Natuzza ha otto anni vede per la prima volta la Madonna e il parrogo gli dice ma no figlia mia gli dice proprio così lascia perdere lascia perdere non ci pensare più quando fa la prima comunione la bocca le si riempie di sangue e Don Silipo il parrogo gli dice ma no figlia mia ti sei morsa la lingua tanto che Natuzza racconta di essere andata a casa e avere visto la lingua che invece era sanissima era il sangue di Gesù perché la prima volta che lei ha ricevuto Gesù ha avuto il dono mistico della sanguinazione l'ostia in bocca è divenuta carne umana che sanguinava Natuzza ha ingoiato carne umana la carne del Cristo capite? ma i doni di Natuzza sono assolutamente solo che il contesto socio-culturale in cui vive è assolutamente impreparato a questa cosa qui va bene? e vedremo come padre Agostino Gemelli infierirà se non è riuscito a ottenere la vittoria potrei io pensare questo non so se siete d'accordo secondo me la sconfitta ottenuta con padre Pio se la gioca in termini di vendetta con Natuzza perché con Natuzza essendo donna cosa volete figlie mie? è così c'è niente da fare essendo donna e padre Gemelli ottiene la vittoria perché a padre Pio non lo smuove ma a Natuzza la fa andare in manicomio Natuzza viene internata per volere di questo padre Gemelli io spero che non lo facciano mai beato non escludo che sia in paradiso ma per carità sento parlare di causa di beatificazioni padre Gemelli allora chiunque può diventare beato qui è è un momento è un momento in passato si andava con grande cautela a fare i beati e i santi qui mi sembra che ci sia hanno fatto santo Paolo VI sapete che non è beato Paolo VI è santo San Paolo VI ditemi voi se la gente ha percezione di questo mi sembra che ci sia un'inflazione padre Gemelli ha considerato padre Pio un imbrogione e Natuzza una psicopatica non so se mi spiego ma lo vedremo evidentemente ormai è chiaro ormai la prossima volta ecco quindi Natuzza che è piccola otto anni come vi ho detto va a a a parlare col parroco ma il parroco lo ha lasciato e come vi ho detto appunto la prima comunione l'ostia consacrata appena ricevuta sanguina dentro la bocca di Natuzza su tutti però c'è un episodio assolutamente straordinario che devo raccontarvi e poi riprendiamo la prossima volta e vorrei dirvi tutto stasera ho otto ore a disposizione prima che albeggi facciamo tutto stasera e non se ne parla più un corso di esercizi spirituali intensi no no scherzo Baldo sei tranquillo era solo uno scherzo allora che cos'è questo ah ecco allora lei Natuzza ha otto anni giusto ha otto anni porta i bambini i bambini i fratellini a giocare li fa giocare eh guardate che vicenda mentre giocano ce n'è tra questi e arriva un bambino che viene a giocare con i fratellini di Natuzza un bambino bello di Natuzza riccioluto ah già abbiamo capito sorridente che non alza mai la voce che non fa il prepotente ma che volentieri gioca con i fratellini di Natuzza e Gesù le rivelerà una volta cresciuta che quel bambino era proprio lui con le sembianze io mi commuovo non so voi con le sembianze da bambino misteriosamente poi scompariva nel nulla ecco nel 1932 a otto anni ehm le visioni celesti diventano sempre più frequenti eh a proposito il parroco Don Silipo dirà proprio queste parole quando Natuzza riceve la comunione vada al parro e dice padre guardi la mia bocca gli mostra la lingua Natuzza ha la lingua tutta piena di sangue il parroco le dice ti sei morsa la lingua figlia mia che cosa hai fatto queste cose non si fanno era proprio impaurito vai vai piccola mia stai attenta un'altra volta Natuzza racconterà rientrata a casa mi guardai allo specchio dentro la bocca tutto era perfettamente normale così mi sentia a lungo in colpa attenzione quando veramente si trovano sacerdoti incompetenti per colpa o per non o per diciamo come si può dire ingenuità eccetera ma è un rischio perché poi le anime lette Natuzza si sente in colpa perché perché era convinta ah ecco il problema lei ha otto anni ha otto anni si ha otto anni quando fa la precomunione si sente in colpa perché ha ingoiato la carne capito e il parroco non l'aiuta a liberarsi ecco va bene mi sembra che per stasera possiamo anche concludere ma forse è bene prima di concludere accennare al discorso più drammatico vive già Natuzza in una situazione difficile i fratelli sono come si dice in paese bastardi la mamma questi cinque fratelli li ottene con cinque uomini diversi che non sono suo marito ma non li accudisce deve essere Natuzza ad accudirli se non che accade l'episodio inaspettato l'arresto della mamma e in paese si diffonde la notizia che va in carcere per reati sessuali finisce nel penitenziario di vivo Valencia per un furto di gallina come la stessa Natuzza poi racconterà ai suoi figli cosa era accaduto da un pollaio vicino era scappato un pennuto e aveva razzolato proprio davanti all'umile uscio della casa di Mariangela la mamma di Natuzza la quale vinta dalla fame e dalla preoccupazione di dover nutrire i cinque figli compresa Natuzza 6 senza chiedere ad essi da dove venisse l'aveva agguantato e ucciso per cucinarlo ma qualcuno della strada aveva probabilmente orchestrato questo per tirarla via per sempre dal paese e infatti arrivano i carabinieri la arrestano con lo sconcerto il dolore le lacrime della figlia Natuzza che comunque voleva bene a questa mamma è condotta in carcere Natuzza resta così sola con cinque fratelli la casa in cui vivevano come vi avevo detto era in affitto quindi la proprietaria il giorno stesso impressionante queste cose fanno male da sentir dire perché si dice che siamo tutti cristiani ma poi bisogna vedere la proprietaria di casa il giorno stesso dell'arresto della mamma approfitta per scacciare da casa i figli buttando dalla finestra i pochi e miseri averi Natuzza corre in strada con i fratellini aggrappati tutti a lei perché sono tutti piccoli e raccoglie tutto ciò che può guardate quanto ha sofferto questa a me una volta Natuzza mi disse a vostra missione non è facile ma io non mi sono mai arresa mi ha detto Natuzza e voi padre non vi dovrete mai arrendere ma la vita di Natuzza è stata molto dura raccoglie gli affetti personali e poi fattosi buio cerca dove mettersi immaginate voi che vita che infanzia no? ma il Siracide lo dice se ti presenti per servire il Signore preparati alla prova abbiamo parlato di tanti santi in questo mese di luglio e agosto sono tutti che passano la stessa strada trovano Natuzza trova un riparo sotto il ballatoio della scala esterna di un edificio scala esterna di un edificio nel centro storico di Paravati si rannicchia nella penombra accogliendo fra le sue braccia i fratellini mamma mia che immagina e non dice nulla per non spaventare i più piccoli ma lei trema dalla paura quella sera era la terza domenica di settembre c'era la processione della Madonna addolorata Natuzza vede passare la Madonna e comincia a piangere sotto il sottoscala esterno di questa casa del centro storico e allora la Madonna le rivolge per la prima volta delle parole poi Natuzza avrà tanti messaggi della Madonna queste sono le prime parole coraggio le dice la Madonna ora vi faccio trovare casa nella notte improvvisamente arriva un giovane che temendo che i cani randaggi potessero aggredire la bambina con i fratellini si mette lì e dice stanotte io vi veglio tutta la notte e così ha fatto quel fanciullo quel ragazzo e al mattino il piccolo cavaliere ebbe un'idea guardate che idea che ha avuto questo ragazzo mandato da Dio e dalla Madonna questo ragazzo dice qui hanno costruito delle case popolari venite con me e allora Natuzza con i bambini lo seguono rompono i vetri di un pian terreno credo che fosse o forse un primo piano ed entrano e si piazzano lì dentro per non uscirne più ed è lì che appena Natuzza entra e concludiamo per oggi entra Natuzza in questa casa disabitata e trova un monaco si trova davanti un monaco che la guarda con sguardo pieno d'amore la ragazzina lo scambia per un frate che viene a chiedere la questo sapete che i frati prima andavano in cerca a chiedere del cibo per mangiare e subito gli dice padre gli dice Natuzza è inutile che venite qua non avevamo niente di mangiare nuovi come facciamo a mangiare buavici ma il religioso alto magro e con la barba canuta guardandola negli occhi piena di dolcezza le risponde con un sorriso gli sorride e le dice sono io che voglio farti un regalo fra tre giorni avrai la grazia che chiedi la grazia che Natuzza aveva implorato rivolgendosi a Gesù e alla Madonna e che ottenne si fondava su due desideri che la mamma uscisse al più presto dal carcere e così avviene e che lei potesse rendersi utile trovando un lavoro e così avverrà quel monaco che l'aveva incontrata era San Francesco di Paola io ricordo un particolare fra i tanti quando sono andato a trovare una delle volte Natuzza il mio rammarico è stato grande perché non l'ho trovata a Paravati ma c'era Don Pasquale ho detto Don Pasquale ma come io vengo qui e Natuzza non c'è risposta che solo chi stava accanto a Natuzza poteva dare così è proprio ha detto così è no è andato è andata con San Francesco di Paola è andata con San Francesco di Paola e Padre Pio sulla Sila a scegliere i marmi per la chiesa allora ho detto guardi Don Pasquale meno male che io la capisco lei e conosco Natuzza capito cioè Natuzza siccome dovevano scegliere i marmi per fare la chiesa quella che oggi sorge effettivamente hanno gusto in cielo perché non si decideva l'equipe che Bergoglio ha del tutto distrutta e allora Natuzza viene e dice un momento Padre Pio mi ha detto insieme a San Francesco di Paola che dobbiamo andare sulla Sila non so dove caspita siano andati e quel giorno che io ero andato a trovare Natuzza Natuzza non c'era perché era andata con San Francesco di Paola e Padre Pio a prendere i marmi per la chiesa di Paravati questo vi dà il segno della grandezza di Natuzza bene spero che sia stata una buona overture qui abbiamo un bel librone che ci aspetta con tutti gli appunti quindi l'appuntamento a Dio piacendo è per venerdì prossimo e proseguiremo questa avvincente storia di mamma Natuzza su tutti voi carissimi miei dandovi appuntamento domani a mezzogiorno per il sesto sesto settimo adesso mi ricordo più incontro di Catechesi Mariana invoco per intercessione di Natuzza mamma Natuzza la benedizione di Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo ame sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria di Dio Onipotente di Dio Onipotente di Dio Onipotente